Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora, di nuovo, tanto per cambiare, ben ritrovati qui nel solito, usuale e ben conosciuto disordine della mia libreria. Allora, cari ragazzi, questa sera si torna a parlare di giocattoloni grandi, grossi, pesanti, stronzi, cattivi, bastardi, rumorosi e che fanno BOOM! Perché? Perché dalle pagine di Armi Leggere della Seconda Guerra Mondiale, opera del grande oplologo inglese John Wicks, si parla di questo! Eccolo qui! Lo vedete? Lo riconoscete? Il fucile automatico anticarro da 20 mm Solothurn S18-100, meglio noto come l'accroccone. Perché accroccone? Beh, innanzitutto perché si tratta di un'arma lunga più di 2 metri, pesante 101 kg, alimentata con un caricatore amovibile da 10 colpi e una velocità del proiettile alla bocca dell'arma di ben 850 metri al secondo, che per un'arma di fanteria da spalla non è mica poco, siamo sinceri, e con una capacità di penetrazione di blindatura di 40 mm a 100 metri con angolazione di 90 gradi. Insomma, un bestione, eccolo qua, non da poco. Bello! La dimostrazione di come anche i nostri vicini elvetici siano in grado di essere ignoranti, stronzi e bastardi quando ci si mettono. Allora, il Solothurn S18-100 era un'arma che prestò servizio durante la Seconda Guerra Mondiale nel regio esercito italiano come arma d'appoggio per la fanteria contro carro, insieme al ben più famoso e più celebrato cannone da 47 mm di progettazione Böller, di progettazione ostreca, il famoso elefantino. La croccone, il soprannome che oserei dire gli calza a pennello, era un'arma potentissima, ben fatta, ben costruita, decisamente potente per l'epoca. Quando entrò in servizio nel regio esercito alla fine degli anni 30 era considerata una delle migliori armi anticarro portatili disponibili sul mercato. Come dire, non c'era, mettiamola così. Era un'arma impressionante, diciamo, spararsi era un'arma impressionante. Se cercate su YouTube troverete i video in cui si spara col Solothurn S18-100 e pigliatevi paura perché è un bestione terrificante. Se guardate su Forgottenweapons.com troverete Gun Jesus, I am McCollum, credo uno dei più grandi esperti d'armi che sia, come dire, uno dei più grandi esperti d'armi che io abbia mai visto perché quell'uomo sa veramente tutto su qualsiasi tipo di arma da fuoco. Dicevo, era un'arma, l'S-1800, pesante e complicata da far funzionare. Evidentemente i nostri alti comandi l'avevano scelta per il regio esercito italiano perché probabilmente l'industria italiana non era stata in grado di progettare o costruire qualche cosa di altrettanto complesso e complicato. Perché? Sentite un po' qua. Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa. Il rinculo era talmente tanto violento al momento dello sparo perché parliamo di una cartuccia da 20 mm, insomma ragazzi. Ecco, il precursore del Barrett, il precursore di certi fucili antimateriali che vanno per la maggiore, i famosi fucili ultrapesanti che sparano proiettili dal 12.7 in su e il Solutern S-1800 è un precursore di questi fucili. Praticamente il rinculo di quest'arma era tanto violento che era stato progettato un apposito freno di bocca per bilanciarlo. La cosa strana, ma trattandosi del regio esercito italiano insomma sappiamo bene che c'è poco di cui stupirsi, era che i primi modelli di S-1800 che sparavano cartucce meno potenti erano dotati di accorgimento per l'assorbimento del rinculo di qualità decisamente migliore rispetto alle ultime versioni con un munizionamento più potente. Ma con essi, con le prime versioni dell'S-1800 si poteva sparare solo a fuoco automatico e questa è forse, forse, la ragione dell'applicazione di tali accorgimenti. Ma il caricamento dell'S-1800 e ripeto, eccolo qui, l'S-1800 due metri e dieci di vestione per 110 kg di peso vabbè, era comunque un'impresa. Allora, la maniglia di armamento, ci scrive John Wicks era posta sul lato destro del corpo e la si doveva girare tre volte e mezza per tirare indietro il blocco di culatta. La maniglia di armamento agiva arrotolando intorno ad una ruota dentata un tratto di catena da bicicletta. Era poi necessario girare altre tre volte e mezza la maniglia inserire un caricatore pieno nell'apertura del lato sinistro e dopodiché con un gran baccano di macchinari in movimento i 4,5 kg del blocco di culatta scattavano in avanti e inserivano una cartuccia da 20 mm nella camera di scoppio. A quel punto si trattava soltanto di premere il grilletto. Vabbè, cioè, insomma, 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 insomma cioè, vi rendete conto di che razza di manovra bisognava fare? Cioè, allora, siamo sinceri I russi avevano i ben più semplici PTRS e PTRD cioè, praticamente, fucili anticarro decisamente più semplici cioè, addirittura un fucile monocolpo cioè, prendevi, inserivi la cartuccia dentro la camera di scoppio facevi girare l'otturatore, chiudevo sparavi e poi, stop, ripetevi il processo caricando volta per volta a mano, a colpo singolo i fucili anticarro sovietici furono usati fino alla guerra di Corea come fucili da cecchino e fino a tutti gli anni Ottanta erano in servizio ancora nell'esercito albanese per dire ma il solotorn S1800 un'arma bellissima, indubbiamente ma costosissima e complicatissima cioè, io ho il sospetto ripeto, ho veramente il sospetto che il reggio esercito italiano lo abbia scelto come arma perché l'industria italiana non era riuscita a progettare qualche cosa di altrettanto complesso complicato e accroccato siamo sinceri per carità, ripeto un'ottima arma che prefigura gli attuali fucili antimateriale dal Barrett in poi però, siamo sinceri rendetevi conto girare tre volte e mezzo la manetta di armamento per tirare indietro il blocco di culatta rigirarla altre tre volte e mezza per inserire il caricatore e poi farle scattare i quattro chili e mezzo della massa battente poi chiedetevi perché non riuscivamo a produrli perché, 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 perché perché il reggio esercito italiano ci aveva la fissazione per queste cose barocche arzigogolate, complicate cioè, per carità funzionava funzionava anche bene e, ripeto, era un'ottima arma da accompagnamento da accompagnamento per la fanteria e, soprattutto, era un'ottima arma anticarro fino alla fine dalla fine degli anni 30 e fino ai primi due anni di guerra ok? fino al 1941 circa funzionava piuttosto bene come arma anticarro ed era devastante contro bersagli poco protetti come camion, autoblinde e quant'altro insomma un attuale l'equivalente di un attuale fucile antimateriale poco ma sicuro ma oggettivamente in guerra di solito si dice che devono essere usate armi semplici poco costose funzionali di facile manutenzione e di facile costruzione e di facile uso cioè gente vi sembra che un attrezzo così con la procedura di caricamento e sparo che vi ho detto risponde ai criteri di un'arma da guerra efficace? insomma pensateci un po' su per carità bello a vedersi pesante cazzuto cattivo terrificante a spararsi ripeto guardate i video su youtube dell'S-1800 che spara c'è veramente di che pigliare paura ma non solo per come viene centrato il bersaglio ma più che altro per chi spara perché insomma parliamo di un autentico cannone da spalla non è molto simpatico spararci diciamoci la verità però che vi devo dire uno dei tanti esempi di come le gerarchie insomma di come il regio esercito italiano non fosse veramente in grado di capire come doveva essere fatta un'arma da guerra semplice robusta affidabile di facile manutenzione di facile produzione e che funzionasse bene il solo turn S-1800 funzionava bene ma farlo un pochino di funzionamento un pelino più semplice proprio non gli era venuto in testa a nessuno che vi devo dire quindi cari signori ripeto il solo turn S-1800 è indubbiamente la come dire dimostrazione di come anche i nostri vicini di casa svizzeri sapessero essere decisamente stronzi quando ci si impegnano quindi cari signori io come sempre vi ringrazio di tutto cuore per l'attenzione e come sempre arrivederci al mio prossimo video buonasera